Le più belle colonne sonore che hanno fatto sognare ed emozionare al cinema e non solo, per la prima volta saranno in tour grazie all'Orchestra Sinfonica Terra d'Otranto. La prima nazionale andrà in scena il prossimo 5 maggio al Teatro Italia di Gallipoli. La produzione è realizzata da Nello Marti, che dopo alcuni anni dedicati esclusivamente ad eventi televisivi, torna alla sua antica passione, e cioè la musica dal vivo ma di qualità. Sono stati gli stessi professori d'orchestra, assieme al maestro Palazzo, a Patrizia Buglia, insomma il gruppo artistico da un paio d'anni dicevano, insomma questa cosa perché solo utilizzarla in ambito televisivo, con le grandi produzioni che hanno fatto sempre con la RAI. Io ho detto, quando arriverà una proposta che mi piacerà, tornerò al passato o al futuro che dir si voglia. E questa della proposta delle colonne sonore effettivamente è stata una cosa eccezionale, nel senso che forse per la prima volta in Italia un'orchestra sinfonica propone al pubblico in maniera diciamo popolare, nel senso accessibile a tutti i grandi temi dei filmi che ci hanno fatto anche sognare. Quindi la vita è bella, c'era una volta in America, Morricone, Nino Rota con autori, quindi voglio dire i più grandi filmi. E allora ho trovato il progetto davvero eccezionale e sono tornato alla vecchia passione, cioè quella della musica insomma. Tra le novità sul palco, Patrizia Bulgari, raffinata interprete degli anni 90, quando partecipò a tre festival di Sanremo e due cantagiro, piazzandosi puntualmente nei primi posti, e ancora si conterà sulla presenza del soprano Grazia D'Aversa. La regia è affidata alla professionalità di Carlo Di Leonardo, mentre gli arrangiamenti alla direzione dell'orchestra sono appannaggio del maestro Antonio Palazzo, che per dieci anni ha diretto la compagine artistica. La novità in assoluto è che nelle nostre piazze, nelle nostre bellissime piazze, specialmente nel Meridione, diciamo, vediamo da un po' di anni più o meno le stesse cose, belle logicamente, ci mancherebbe. Il uscire fuori dal teatro, in qualche modo, andare verso le piazze, andare incontro al pubblico che normalmente queste cose non le vede, una sinfonica non la vedi facilmente, però sposandola, coniugandola con ciò che comunque è popolare, perché queste colonne sonore, voglio dire, sono popolari. Ma non solo, oltre a deliziarsi della buona musica, la serata ha anche una seconda finalità, devolvere il ricavato alla mensa della carità di Gallipoli, diretta da Don Santo Tricarico. A Gallipoli è nato un fatto di tipo sociale e umanitario, cioè la mensa di carità. Per la prima volta è nata questa mensa, quindi con uno sforzo enorme da parte della Curia, da parte di Don Santo, per dare un pasto a chi non ce l'ha, perché c'è questa realtà, è inutile nasconderlo. E allora abbiamo ritenuto di virare, se così si può dire, su Gallipoli, anziché fare una semplice anteprima ad invito, farla di beneficenza, devolvendo a questa mensa, che ha tanto bisogno ovviamente.